Salve a tutti amici di Amazon, piccolo video dove vi mostro questa fantastica Ghirlanda a mio parere perché ripeto il prezzo non è super economico perché adesso attualmente comunque in offerta 37 euro però comunque intanto è una Ghirlanda ripeto dal mio punto di vista curata molto bene quindi abbiamo un sacco di decorazione come potete vedere, abbiamo come potete vedere le palle rosse abbiamo delle ghiande molto grandi, abbiamo dei fiori oro come potete anche vedere è un'ottima e bellissima scritta Merry Christmas, abbiamo anche questi frutti rossi quindi è una bellissima composizione la grandezza di questa Ghirlanda, ve la mostro immediatamente ok, la grandezza di questa Ghirlanda è di circa 40 cm di diametro quindi cerco di farvela vedere, eccoli qua ok, 40 in più, con circa 40 cm di diametro ok, ogni singolo addobbo è incollato ai vari rami con della colla a caldo quindi sono abbastanza solidi, ok, come potete vedere non si staccano, non si stacca nulla quindi è bella solida, ok, non si stacca nulla, fantastica dietro, come potete vedere, questo è il modo in cui hanno questo è il modo in cui hanno installato la Ghirlanda a questo supporto come potete vedere qui c'è un piccolo alloggio per mettere due batterie AA, quindi io le chiamo le batterie medie che adesso andrò a mettere al volo e vi mostro anche le luci, dato che questa Ghirlanda ok, presenta anche due luci avete il tasto ON e OFF qua, quindi la accendete e il risultato, eccolo qua Alexa, spegni luce Thomas eccolo qua faccio vedere meglio adesso è tutto buio comunque io la andrò a mettere sulla porta del mio salotto che comunque non sarà mai buio magari potevano mettere qualche LED anche sulla scritta Alexa, accendi luce Thomas potevano mettere qualche LED sulla scritta magari così da illuminare anche la scritta comunque la trovo ben fatta molto carina ok, ripeto il prezzo non è il prezzo non è basso perché 40€ sono tanti però secondo me è un prezzo che reputo onesto non è economico ma è onesto fosse stata a 30€ sarebbe stata sicuramente più abbordabile ma anche comunque con 40€ secondo me li vale a tutti li vale anche per il fatto di tutti i rami fatti bene non si stacca neanche un rametto poi c'è stato messo anche questa tipologia qua di sempre tipo di pino diverso è molto molto carino quindi la consiglio ti aspetto qui sotto con la recensione scritta un saluto da Thomas e al prossimo video recensione ciao a tutti